Si svolgeranno lunedì 21 ottobre in forma privata i funerali di Letizia Girolami, la 72enne, che è stata uccisa lo scorso ottobre all'interno della sua proprietà di Foiano della Chiana, nell'Aretino, a confessare l'omicidio. È stato il 37enne ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana. L'uomo si trova in carcere ad Arezzo di pochi giorni fa, il ritrovamento del cellulare della vittima in uno dei laghetti della proprietà. Dopo l'esame autoptico eseguito sul corpo della donna, la salma è stata restituita alla famiglia. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, poi la salma verrà cremata. È stata la figlia della donna in queste ore ad annunciare la data dei funerali e anche l'avvio di una raccolta fondi per aiutare il padre a sostenere le spese. Per me è estremamente difficile pubblicare questo post, scrive la figlia, proprio sulle pagine social della madre. Mio padre ed io vi chiediamo un piccolo aiuto per poter sostenere le improvvise spese funerarie e legali, di cui potrete leggere i dettagli nel link di seguito sulla piattaforma GoFundMe. Grazie mille di cuore, conclude la figlia, a tutti per la vostra solidarietà e vicinanza in questo momento così terribile e scioccante per tutti. Grazie mille.